la fedeltà, la lealtà tu sai per me la cosa più importante la fedeltà, la lealtà l'amicizia uno non ha mai amicizzato l'amicizia per l'affare perchè non sai mai quello che ti può succedere lloverà? ma quando oggi? non lo so secondo te forse magari si forse dici forse Roberto si fanno il culo a capire capite? si andate a fare lavoro tutti i giorni e guai a te nessuno guai a te se lo tocca c'è qualche novità ton? una settimana fa è entrato un dizio qua dentro tutte le gambe sta succedendo? voi ha messo la mano in due altre monetine a miscare un po' che sei venuto fuori con questa monetina americana con la testa di bufala sopra e poi stasera? si penso che lo facciamo stasera ma Anna a me insomma non vuoi che faccio più il lavoretto? vado dentro e faccio il culo la prima cosa è che rivoglio quella cazzo di moneta oh professor buonasera c'è Anna? chi le dice no? allora mi dico ho sbagliato ma questo non è il 2217 no? 834 e chi le dice no? no dice si perchè chi sei o 2217? chiedevo solo come entri tutto qua sta facendo delle quiz una domanda una domanda e qual è la risposta esatta? vedo quando mi ci trovo cazzo ton? tanto decide sempre tutte cose tu Don l'Infallibile Don il Supremo vogliamo assasare vogliamo assasare io ho deciso per capisire con fisso ho una moneta ton? una moneta? una con la testa di bufalo le cose a volte non sono come sempre spiegami che sta succedendo io ve la faccio ton? dove hai preso quella moneta? sai qualcuno tu si sa un aglione Gennaro e quelle lesbiche del cazzo basta hai capito? noi siamo stati scordati a Dio donna allora c'è merda e sprofornare in da merda no? in da merda oh oh